6 ottobre 2020, messaggio di Nostra Signora. Cari figli, piegate le vostre ginocchia in preghiera. Dio ha bisogno del vostro sì sincero e coraggioso. Tempi difficili verranno per coloro che amano e difendono la verità, ma la vittoria di Dio verrà per i giusti. Io sono la vostra madre e vengo dal Cielo per chiamarvi alla conversione. Testimoniate ovunque il mio amore per voi. L'umanità si è allontanata dal Creatore e cammina per un grande abisso. Tentitevi e ritornate al Signore. Non tiratevi indietro. Questo è il messaggio che oggi vi trasmetto nel nome della Santissima Trinità. Grazie per avermi permesso di riunirvi qui ancora una volta. Io vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Rimanete nella pace.